Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo un puzzle di legno realizzato dall'artista lecchese Cesare Rocchi. Cesare sceglie accuratamente i legni da tagliare e con maestria crea tessere in legno dalle forme originali. In questa opera, su legno, è stato applicato un foglio di cuoio sardo decorato. Ogni tessera è perfetta e il puzzle di legno finale diventa un'opera d'arte. Qui vediamo un gruppo di amici che si mettono a realizzare questo puzzle di legno. Qui siamo già a metà dell'opera. Il puzzle è quasi finito. Vedete i vari pezzi. Ogni tessera è unica e viene tagliata accuratamente. Ogni tessera è un pezzo unico. Ecco il puzzle composto. È un puzzle di legno. Eccolo qui. Il puzzle è finito. Complimenti all'artista. Adesso abbiamo girato. Ecco qui vedete tutti l'intaglio. Vedete l'intaglio. Ecco qui è uscita una tessera. Ecco qui il puzzle completo. Vedete l'intaglio di tutti i pezzi tagliati. Ecco qui vedete come è. Ecco. Bellissimo. Grazie a tutti.